Musica Dottoressa Cagliazzo, quindi lei non rilascia interviste giusto per un aggiornamento a EGIT? Si sono venuta oggi semplicemente per verificare e quindi mi sto rendendo conto insomma che tutto sta procedendo secondo la nostra disposizione e quindi a presto avrete anche comunicazioni più ufficiali ma penso che la nota la conoscete tutti. Quindi che cosa abbiamo oggi a quest'ora? Avete un pronto soccorso con delle aree omogenee di riferimento che sono quelle previste e sono un'area utica di animazione e quindi poi abbiamo anche un'area di medicina d'urgenza, chirurgia d'urgenza, ortopedia abbiamo dei posti letto e l'area dei servizi. Avremo anche a breve dei coordinatori, quindi diciamo dei lettori responsabili ciascuno per ogni area perché il tutto proceda bene. Quindi le ambulanze non verranno più dirottate a Vallo ma bensì ritorneranno al pronto soccorso di Agropoli? Come detto nell'ordinanza del Consiglio di Stato? Il 118 chiaramente è la centrale operativa che a secondo appunto dei tempi di percorrenza e anche delle patologie quindi deciderà autonomamente come già decide la centrale operativa chiaramente è il posto più vicino. Nel posto più vicino però se succede, perdonatemi, un problema qui in zona dovrebbe insomma... Adesso sono molto impegnata perché sto parlando con i colleghi perché per i turni, quindi stiamo organizzando il tutto poi vi daremo ulteriori informazioni però devo dire la verità la mia preoccupazione è che chiaramente qui si riparte. Grazie! Grazie! Grazie!